Quindi in questo momento queste sono le voci che vogliamo rappresentare. Un saluto a tutti gli amici che vivono questa giornata particolare, questa è una giornata assolutamente buona, questa è una giornata assolutamente buona. Dobbiamo coinvolgere le istituzioni e mi fa piacere che il sindaco di Tivoli ha preso parola prima di me, finalmente è uscito fuori, perché doveva uscire prima? Doveva prima fare un regalo alla sua amica, la Polterini, che è venuta a Tivoli, ma si è dimenticata probabilmente. E' come, grazie per il venuto e proprio ci stavo io. Grazie! 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 Grazie!